1, 2, 3, 4, you know what I'm waiting for Ciao a tutti ragazzi sono DC dei Cigi di Gamers ed eccoci con un nuovo episodio di Rayman 3 Eccoci qui, con i nostri ingranaggi che girano per caricare il livello e siamo su Rayman 3 Bene, cosa dobbiamo fare? Niente, ciao, me ne vado, arrivederci Allora, vediamo un po' qui cosa c'è, ah qui c'è un buco, non c'è niente, cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Perfetto, andiamo avanti Lì c'è uno che dorme, quindi noi lo dobbiamo uccidere, oh l'abbiamo ucciso Rompiamo la cage, la cage Molto bene Deve tirare la catena, dove vado? Allora, 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 mi sto capottando, andiamo Oh, qui c'è della vita che non ci serve e qui c'è Glowbox, ciao Glowbox Qui non c'è niente, perfetto, andiamo avanti Oh Dio, cos'è sta roba? Ma che cazzo? Ma sembra una sorta di altalena elasticata con le zampe di un cavallo Vabbè no, scherzavo, non è quello che sembra Allora, mi pare di capire che devo passare su queste cose qui? Sì, sì, bene Madonna, che versi ignobili che fanno, è abbastanza inquietante Ecco qui, passiamo anche su questo e cosa succede? Ah, si forma il power up, che figata Così adesso gli tiro un razzo nella testa Quindi, uno, due, tre, pop Dai, 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 dai Oh, ma non, non è la gamba, Santa Maria C'era una freccia e io sono riuscito a prenderla Mi sono preso Rayman in testa Bene, perfetto Ok Abbiamo scoperto che i cosi scadono come tempo È inquietante sto boss, eh, devo dire la verità Però, vabbè, faremo Ah, in qualche modo, in qualche modo faremo No, 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 lasciami prendere il power up Bastardo, basta, ma che cazzo, basta, basta Sto morendo, ragazzi, ragazzi, sto morendo Molto bene, allora, continuiamo questo livello Allora, bisogna andare a prendere il coso blu laggiù Ma non sono riuscito neanche a togliergli un pezzo di vita, eh Non va mica bene sta cosa, eh Bisogna tornare indietro adesso Adesso arrivare qui Prendere il razzo E tiraglielo nella testa E ce l'ho fatta, signori Molto bene Credo che adesso il procedimento sia lo stesso Per tutti i vari pezzi del livello Allora, allora, arriviamo di qui Facciamolo passare di qui, però Perché se no è una merda Oh, 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 oh Perfetto, abbiamo preso di nuovo l'altro power up Subito razzo Pum, colpito Andiamo così Adesso Sì, c'aveva ancora un razzo disponibile Ma non era il caso Intanto non ci arriviamo Oh, che cazzo Ci sono i mostri, zio porco Vabbè, fa niente Allora, carichiamo Va al pugno Oh, excellent Adesso carichiamo anche l'altro Appena si può Ma no, mi ha schiacciato Santa Maria Ah, devo rifare tutto Allora Dai, 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 cazzo Gianluca Allora Continuiamo Uno, due, tre Adesso gli facciamo fare il giro largo Perché se no me lo schiaccia E me lo rompe Così Oh, 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 oh Bene Ho preso il power up Colpito Speriamo di averlo colpito No, non ce l'ho fatta Ho preso il muro Molto bene Molto male, anzi Allora, allora Continuiamo Senza farci schiacciare Ecco In questo modo Ce l'ho fatta Senza problemi Ci siamo fatti schiacciare Come voleva si dimostrare Ce la farò Ce la farò Ce la farò Non ce la farò Molto bene Devo andare a prendere l'altro Corri, 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 corri Corri, corri, coniglietto Corri, corri, coniglietto Scusatemi per i flash Che ogni tanto Appaiono sullo schermo Ma vi giuro Che non so cosa sia Non so cosa sia Mi auguro Che non sia una patologia grave Perché Boh Mi farò vedere Da un dottore Allora Ecco qui Prendiamo Power up Opa La rai E lo uccide Andiamo Così cazzo Gianluca Adesso cosa facci Si mette lui Sull'altalena Con le zampe da cavallo Adesso arrivano Sti due imbecilli E cosa ne dobbiamo fare Ah c'è un po' di madigola Credo che Di aver dormito Qualcuno ho scoperto Allora Siamo collegati Con l'arena Di Chiara Foglia Come dice Coso Uno Due Tre Andiamo così Ancora Quattro Andiamo Andiamo No Ma ha mancato Bastardo 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 Eh ce l'ho fatta Ce l'ho fatta L'ho ucciso L'ho ucciso Andiamo ancora Andiamo ancora Andiamo ancora A ucciderli Ancora Ancora uccidere Dobbiamo ucciderli Tutti In questo modo Andiamo Magari se riuscivo A fare una combo Decente Era meglio Eh però Meglio che niente Dai Gli Udrum Non avranno fatto Un viaggio a vuoto Mi hanno detto Allora Uno Vai Hop Due Tre Hop Poi ancora Quattro Bene Andiamo avanti Cerchiamo di mantenere La combo Raga Cinque Sei Andiamo 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 con la combo Bella Lì Sette Ancora Mille di combo Continuiamo questa combo Mille due Mille due signori Mille quattro Mille quattro No non ce l'ho fatta Mille quattro Finita la combo Vabbè ma ne facciamo un'altra No non ne facciamo manco un'altra Allora Hop Uno Vai andiamo 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 raga Andiamo Andiamo Corro veloce Guanito Gomez Come dice il mio amico Piggy Saluto Piggy Guardate che combo Quattrocento di combo Molto bene Sono queste le gioie Della vita Uccidiamo l'ultimo Gli ultimi Odrum Ottocento di combo Mille di combo E abbiamo finito Molto bene Cosa ho vinto Un cavallo ad ondolo Ho fatto Un po' di punti Adesso dove vado Dove devo andare Dove si deve andare Di qua Oh qui c'è un buco Che cazzo Qui ho trovato C'erano delle cose Che non chiedetemi Che cosa sia A qui E dove si arriva Dal livello Capito Niente Torniamo pure indietro Non so come mai Mi era apparso Questo bug Clamoroso Andiamo Dove si va adesso Che non mi ricordo Di là Di qui non si può E allora si va Di là Esatto Esatto Bene bene Allora Qui cosa abbiamo Abbiamo che mi suona Il citofono Quindi video in pausa Tra 3 2 1 Hop Eccoci in questo posto Che figo Guarda che bello Sembra un grande fungo Grande fungo C'era grande puff Una volta Adesso c'è grande fungo Grande puff Grande fungo Bene basta Bando alle ciance Concludiamo questo livello Che ho preso Il 100% Andiamo così Molto bene Prossimo livello bonus Tra 33.844 punti Salvattiamo Sulla memory card E arriviamo in questo posto Con questa musica Molto ignorante Io c'ho paura Più che altro Perché ho visto Tanti cosi Secondo me Mi sparano Ecco Appunto Detto ciò Voi non avete visto niente Questa sarà Nella prossima puntata Da DC dei CG Gamers Quindi è tutto Al prossimo video Hasta luego gente Dì Grazie a tutti.